Due episodi dedicati all'affascinante universo dei fucili Cosmi, per capire come tradizione e innovazione si uniscano in un prodotto tecnologicamente tra i più avanzati del settore. Tranquille, piacevole da portare e maneggiare anche in ambienti magari non facilissimi. Il fucile è pronto allo sparo. I fucili che guardano il mare, sabato 12 e 19 giugno alle 21 in esclusiva su CacciaTV. Grazie per la visione!